Merito Portosalvo, primo dicembre 2014, dagli studi di Telemerito Domenico Salvatore siamo in compagnia con l'architetto Federico Curatola, è arrivata la notizia bomba, ce la comunica da lui? Sì, la notizia è quella della sentenza positiva, la sentenza di annullamento del Tar del Lazio, del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Bagalati, del quale sono stato sindaco dal 2010 al 2012. Quindi è una notizia che ci riempie di orgoglio, di gioia, una notizia che aspettavamo e che abbiamo sempre atteso con la massima fiducia nella giustizia, convinti come eravamo, della nostra onestà. Ora, tecnicamente, che cosa succede? Non sono riuscito a mettermi in comunicazione con il nostro legale, che è l'avvocato Natale Carbone, del foro di Reggio Calabria, quindi non ho ben chiaro cosa succederà e quali saranno gli effetti di questa sentenza. Noi operativamente dovremmo essere ancora in carica, perché il mandato elettorale era in scadenza in primavera 2015, però sono intervenute nuove elezioni, perché rinvio dopo rinvio l'iter del Tar si è concluso solo dopo due anni e mezzo dal decreto di scioglimento. Sinceramente non sto pensando in questo momento a quali sono gli effetti, sto pensando solo alla contentezza, alla felicità di una sentenza che ci rimette in piedi, se non altro dal punto di vista morale e dal punto di vista politico, poi vedremo. Restituisce la dignità a un giovane amministratore? Restituisce la dignità intanto a un Paese, un Paese che si è sempre distinto nel contrasto alla criminalità organizzata e che ha sempre rifiutato la logica mafiosa. A me personalmente e ai miei dodici giovani colleghi, consiglieri, sì, sicuramente restituisce un po' la dignità e soprattutto ci restituisce l'orgoglio di appartenenza a una comunità sana come quella di Bacalati. Il dottore Federico Curadola ha sempre avuto fiducia nella giustizia? Indubbiamente, ho sempre avuto fiducia nella giustizia nonostante la giustizia abbia dato più volte in parecchie occasioni modo di perderla questa fiducia in chi la subiva. Ma il principio che regola la giustizia è veramente, credo, inattaccabile. Per cui, sì, abbiamo sempre avuto fiducia in una giustizia, in una giustizia giusta che forse è arrivata in ritardo, ma per quel che mi riguarda l'importante è che sia arrivata. Ci potrebbe essere un effetto domino sugli altri comuni? Non lo so, questo non lo so, perché credo che, discutendo nel merito, entrando nel merito delle singole situazioni, il Tar non abbia, diciamo così, valutato dal punto di vista procedurale il decreto di scioglimento, i decreti di scioglimento, bensì sia entrato proprio nel merito delle questioni, cioè nel valutare se veramente vi fossero elementi concreti, univoci, irrilevanti, tali da pregiudicare la libertà democratica di una comunità. Io posso dire che nel mio caso, nel caso di Bagalati, abbiamo sempre sostenuto che questi elementi non vi erano e oggi il Tar ci dà ragione. I possibili scenari, ora il sindaco in carica, l'ingegnere Santo Monorchio dovrebbe accettare, tra virgolette, le decisioni del Tar oppure andare al Consiglio di Stato? No, l'unica cosa che io so in questa vicenda è che non è il comune l'ente titolato a impugnare il provvedimento del Tar, bensì è il ministero. Quindi se il ministero dell'interno deciderà di impugnare il decreto, la sentenza del Tar, il comune è solo uno spettatore in questo caso. Io ritengo però una cosa, ritengo che oggi anche l'ingegnere Monorchio, ma io ritengo tutta la comunità di Bagalati, debba esultare per questa sentenza, perché a prescindere dagli effetti politici che potrà avere e che, ripeto, disconosco, è una sentenza che restituisce a Bagalati l'onorabilità e la dignità. Cosa si sente di dire ai comuni, ai sindaci che sono stati sciolti? Io mi sento di dire ai miei colleghi di non perdere mai la fiducia nella giustizia e che quel ragionamento sulla opportunità e sulla validità di questa norma che scioglie i consigli comunali va comunque fatto e va fatto tra di noi, io dico tra di noi, ma va fatto comunque tra i sindaci, va fatto con i nostri rappresentanti in Parlamento, va fatto con il ministero, con i ministri, va fatto con le prefetture, perché non è una norma efficiente e non è una norma efficace, nel senso che in alcune situazioni, penso a tanti comuni anche qui e attorno, anche questo dove ci troviamo, il terzo scioglimento non ha, diciamo così, eradicato il problema della criminalità organizzata, ma al contrario l'assenza di riferimenti politici, l'assenza di riferimenti amministrativi spinge ancora di più la comunità a disgregarsi e ad allontanarsi dalla legalità e dalla giustizia e magari ad andare a bussare ad altre porte. Ancora non c'è una comunicazione ufficiale, come ha preso la notizia? La notizia l'ho appresa dalla rete, è stata una mia amica, posso anche fare il nome perché credo sia anche abbastanza nota nel comprensorio, è Noemi Evoli del coordinamento No al Carbone, mi ha inviato un messaggino chiedendomi come mai ancora non glielo avessi comunicato. Non l'avevo comunicato a lei semplicemente perché non lo sapevo nemmeno io, l'ho appreso dalla rete e una testata online, di cui ovviamente non faccio il nome, ha girato per prima la notizia dell'annullamento del decreto di scioglimento da parte del Tar, immediatamente ho contattato l'avvocato che già sapeva, diciamo così in sintesi, la notizia. Una gratificazione da parte della comunicazione ufficiale e di cui Federico Curatola è parte integrante visto che in atto era corrispondente del quotidiano della Calabria. Sì, diciamo che è stata una delle mie passioni giovanili, quello del giornalismo che non ho mai abbandonato se non per completare gli studi o per svolgere l'attività amministrativa. Quindi il fatto che sia stata un'agenzia di stampa a dare per prima questa notizia la cosa mi fa molto piacere. Bene, ringraziamo il dottore Federico Curatola e ovviamente gli facciamo i migliori auguri.